Stai attenta, o rovinerai tutto. Come? Ognuno ha le sue ragioni. Forse tu uccidi perché sei costretta. Lo capisco. Avevo un compare che frignava per ogni freccia andata a segno. Quando cacciavamo quei luridi banditi, aveva sempre gli occhi lucidi. Sei un cacciatore di uomini? Una specie di mercenario? Chiama me Neil. Ho scoperto che dove c'è tumulto, ci sono banditi. Se la prendono con gli innocenti, poi con i pochi rimasti e infine fra di loro. Perché aspettare? Potremmo collaborare e ucciderli. Che ne pensi? Io non ti conosco. E non ho motivo di fidarmi di te. La fiducia è un dono raro, non credi? Sono un semplice viaggiatore con un arco preoccupato per queste terre e senza un compagno. Io non credo proprio che tu sia semplice. Oh. Mettiamola così. Sei una band... Certo che no. Allora non devi temermi. Non mi serve il tuo aiuto per qualche bandito. Bene. Una solitaria. Tranquilla. Se ti uccidono, li farò fuori prima che possano farsi una coppa col tuo cranio o altre assurdità. È così, dolce e amaro. Come un sorriso sporco di sangue. Qual è il problema? Sembri deluso. I clan banditi sono andati. Ho sentito che un altro se l'è data a gambe a sud, dopo aver fiutato la nostra leggenda. È a questo che è servito tutto. A sradicare la minaccia. Ma ora non c'è più nessuno da uccidere. A meno che... No, no. Immagino che questo sia un addio. Dopo quello che abbiamo passato, questo non è il luogo adatto. C'è una messa a sud di Meridiana che si affaccia su punte di freccia. Mi troverai là. Neil, lungo la strada mi chiedevo... Beh, se mi avresti teso un'imboscata. E il divertimento? Le terre dei banditi non potevano essere una degna arena. Ma qui... È incredibile. È così drammatico. Ok, dimmi. Perché non ci ammazziamo a vicenda? Se è così che deve finire, Neil. Tutto finisce. Solo... Tu sei molto scrupolosa. Non ti avrei messo pressione per qualcosa di finto. Come la morte. Niente è più reale. Molto gentile da parte tua. Finiamola qui. Finiamola qui. Non essere così preoccupata. Dovrei dire... Sapevo che sarebbe finita così. Fin dal primo incontro. Ma essere onesto... Pensavo di farcela. No, non è più facile. No, non è più difficile. Grazie.